La prima GMG è stata voluta da Giovanni Paolo II e si è tenuta a Roma nel 1985. La GMG di quest'anno avrà luogo a Cracovia, in Polonia, e avrà come tema la Misericordia. Non è la prima volta che i giovani di tutto il mondo si incontrano a Cracovia. Già 25 anni fa, nel 1991, si è tenuta l'edizione intitolata Avete ricevuto uno spirito da figli. Quello sul primo incontro mondiale al di là della cortina di ferro. Tra le GMG più significative ricordiamo quella del 1989 a Santiago di Compostela. In assoluto la GMG alla quale hanno partecipato più persone fu quella delle Filippine nel 1995. Ha corso già ben 5 milioni di giovani da tutto il mondo. Grazie a tutti.